Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come smontare un pedale bloccato. Il perno dei pedali può essere smontato con due tipi di chiavi, uno con una chiave esagonale da 8 mm oppure una chiave a sogliola da 15 mm. Su certi tipi di pedali occorre utilizzare una chiave a sogliola non tradizionale perché non abbiamo lo spazio appunto per smontare il pedale. Per aiutare lo smontaggio del pedale consiglio di usare uno sbloccante con beccuccio e lo spruzziamo verso il filetto del perno. Vi consiglio anche di spruzzare all'interno del pedale. Il pedale destro mi raccomando va svitato in senso anti-orario, in questa maniera. Mentre sulla parte sinistra della bicicletta il pedale si svita in senso orario. Come vedete lo sbloccante è penetrato all'interno del filetto e così si è agevolato lo smontaggio. Prima di rimontare il pedale ricordiamoci di mettere del grasso al litio sul filetto per evitare scriccolini. Puliamo ora il filetto della piedivella per togliere lo sporzizzo in eccesso. Avvitiamo ora il nostro pedale in senso orario. E infine serriamo bene. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, ci vediamo alla prossima.